Seguo le vicende frascadane da vicino, quelle del comune, ma l'impressione mia è che il comune frascadane ha preso tanto parecchi soldi o spero l'abbia preso quando ha venduto dei terreni. Ho l'impressione che paga parecchio alla principale Brandini per affitti e cose varie. Ho l'impressione che ci siano tante di quelle spese sperperi produttivi per cui noi si troviamo di fronte al fatto che intanto i cittadini dei frascati continuano a pagare, in particolar modo quelli della periferia continuano a pagare cifre illegali. A suo proposito ve vorrei di che io sono l'unico che pago quello che legalmente è dovuto.